Cari amiche e amici, signore e signori, anzitutto scuso per non poter stare con voi oggi nella conferenza molto importante verso il mondo multipolare. Voglio dire alcune parole su questo argomento. La multipolarità, c'è una teoria, c'è una visione filosofica anzitutto del mondo. La multipolarità non è la fissazione realista o pragmatica dell'esistenza dei poli, vari poli, poli diversi del potere a livello mondiale, ma piuttosto la visione della moltiplicità delle civiltà. E questa è la questione filosofica perché si tratta dell'interpretazione dell'universalismo, di che qualcosa è universale, che è universalità. E c'è due risposte generali, due grandi famiglie delle risposte che possiamo ridurre a due risposte essenziali. In un caso possiamo identificare universale o il tutto con la parte, con una delle civiltà esistenti e fare dopo la proiezione di questa detta civiltà su tutta l'umanità. E per questo cammino arriviamo davvero a una visione universale. Facciamo identificazione, per esempio, dei concetti moderni occidentali dell'uomo, del diritto, delle politiche, dell'economia, della società, della cultura, del progresso, della scienza, dell'educazione, dell'arte e identifichiamo queste forme, questi concetti, queste leggi del solupo della civiltà occidentale, identifichiamo con qualcosa di universale, con universalità. Dopo abbiamo, partendo da questo punto, abbiamo la misura, l'instrumento della comparazione che è già la civiltà universale e quale società solo arrivano, avvicinano a questa civiltà. Abbiamo in questo caso un concetto della civiltà identificata con la civiltà occidentale, moderna e post-moderna, e la stessa cosa è universale, è la civiltà come tale. Abbiamo la civiltà, o il tipo dell'universalità, e società che vanno nello stesso cammino, nel stesso cammino, con certi differenziali tra loro e il tipo teleologico dell'universalismo. E possiamo dire che questa società è abbastanza universale, e questo è meno, e questo è ancora meno. E alcune civiltà non vogliono seguire questo cammino del progresso, del sviluppo, dell'universalizzazione, della globalizzazione, e sono società cattive, sono società autoritarie, sono società barbare, che bisogna distruggere per il nome della civiltà, dell'universalità. Questa è la visione unipolare, la visione globalista, che è dominante nell'Occidente attuale post-moderna. E questa è la visione unipolare della civiltà, dell'universalità, del sviluppo, del progresso, dell'uomo, perché tutti gli uomini, tutta l'umanità, è concepita andando questo cammino. Il cammino è unico, universale per tutti, e questo cammino è il cammino dell'Occidente attuale, liberale. E appunto, questa è una visione che è dominante a livello globale per l'elite occidentale, globalista e liberale. E tutte le società, tutta la struttura delle società occidentali, si basa su questo universalismo. Universalismo che è la visione unipolare, razzista, colonialista, imperialista, perché si basa sull'idea che la parte è il tutto. E la parte vuole si porre come il tutto contro la maggioranza. La maggioranza non si conta, perché questa minorità dominante globalmente, la minorità dell'elite liberale, si pone come il portatore dell'immagine, del simbolo, del tipo universale. La parte è tutto, la minorità è non la maggioranza, ma è tutto. La maggioranza non ha nessuna voce dopo di questa affermazione, dopo di questa applicazione dell'universalismo liberale globalista. E la multipolarità è la risposta radicalmente opposta, la risposta e la visione e la interpretazione dell'universalità opposta all'interpretazione dell'elite liberale totalitaria, possiamo dire. E questa multipolarità inizia il suo sviluppo teorico dal punto che esistono le civiltà diverse e differenziate, che non sono immagini o ripetizioni della civiltà occidentale, che hanno i suoi propri cammini, i suoi propri valori, le sue proprie tradizioni, le sue proprie identità, e non solo stando nell'altro punto nel cammino comune a tutta l'umanità, ma che vanno nel senso proprio, nel senso che non necessariamente coincide o corrisponde con le altre civiltà. Questa è la visione filosofica della moltiplicità dell'umanità, e che esistono le civiltà diverse, che vanno sui propri cammini, con le sue proprie velocità, e questa non è la questione di un cammino e le velocità diverse, si tratta dei cammini, delle identità diverse dall'origine alla fine. Questa è la visione totalmente diversa, che c'è una pluralità delle umanità, ci sono, ci esistono le civiltà differente, e queste civiltà differente, cadono una, ognuno di loro, è il soggetto dell'ordine mondiale, e per questo possiamo arrivare al concetto dell'universalità solo dopo considerare i concetti, i valori, le tradizioni, le identità, le tradizioni di tutte queste civiltà. E questa universalità, questo universalismo è radicalmente a posto all'universalismo razzista, liberale e globalista, perché queste civiltà, prima che arrivare all'affermazione di questo concetto, altro concetto, terzo concetto, e davvero universale, devono esplorare, devono studiare le culture diverse, i sistemi dei valori diversi, comparare, cercare i punti comuni che coincidono, che non coincidono, per arrivare al vero universalismo, ma prima di arrivare a questo ordine universale internazionale, dobbiamo affermare questa identità di tutte queste civiltà. E questo è il multipolarismo, questa è la filosofia di multipolarità, che inizia, comincia con questa affermazione, che non vogliamo accettare l'universalismo imposto dall'Occidente liberale globalista, e vogliamo, prima di cominciare la formazione del nuovo universalismo, prima di questo, dobbiamo, dobbiamo, prima di questo, affermare le nostre proprie civiltà, precisare, manifestare e riaffermare le nostre identità, decolonizzare la nostra mente, e questo si tratta dei Tutsi, decolonizzazione delle menti è una sfida per la Russia attuale, che si afferma come il polo sovrano dell'umanità, lo stesso è molto importante, è valido per la Cina, che si afferma più e più come civiltà indipendente, e si decolonizza più e più dell'influenza dell'egemonia intellettuale occidentale, lo stesso possiamo vedere nell'India attuale, nell'India di Modi, di Hindutva, dove le tendenze identitarie crescono a grande velocità, vediamo lo stesso nell'Africa, nel mondo islamico, ovviamente il mondo islamico sta al frente del processo ideologico della decolonizzazione, perché l'Islam è molto sensibile per questa colonizzazione culturale dell'Occidente, ma manca, si manca al mondo islamico unità geopolitica, politica, e vediamo che nel caso del genocidio dei palestinesi, il mondo islamico resta sconcentrato, non unificato, differenziato, e questo è il punto debole del polo islamico, che intellettualmente, religiosamente, ideologicamente, possiamo dire, è al frente di altre civiltà, ma si manca questa dimensione strategica che Russia e Cina hanno. Africa e America Latina sono altre due civiltà che vogliono affermarsi, che vogliono decolonizzarsi, erano ambedue colonizzate queste civiltà direttamente, literalmente, e per loro l'idea di liberarsi di questa ideologia liberale, occidentale, egemonica, e l'acquisizione del essere o non essere. Per questo è molto importante. ma anche c'è altra civiltà che nel contesto della filosofia multipolare anche bisogna essere liberata, e questo si tratta della civiltà occidentale, europea e americana, che non coincide con il liberalismo globalista. Tutti che non si sentono correttamente rappresentati da questo gruppo di ultraliberali, maniacali, globalisti, sono anche sotto pressione, sotto colonizzazione. Nel contesto della multipolarità possiamo parlare della decolonizzazione dell'Occidente come d'altra civiltà che sta come altre civiltà non occidentali sottodominazione di questo gruppo delle minoranze totalitarie, globalisti, LGBT, femministi, partigiani dell'intelletto artificiale, e tutte altre perversioni che legalizzano più e più dall'elite globalista. Questo è il momento più importante, che non si tratta solo del conflitto dell'Oveste e non-Oveste, l'Oveste contro l'Oveste, come Samuel Huntington sviluppando l'idea di altri autori ha detto, «The West against the rest». Questa idea era, questa formulazione appartiene a Toynbee, il filosofo inglese, e Huntington ha fatto di questa formula, una formula, definizione più importante del scontro delle civiltà, e era corretta, ma non ha menzionato Huntington che questo conflitto dell'Oveste contro l'Oveste, «The West against the rest», ha anche una dimensione intrinseca, interiore, perché il concetto dell'Oveste attualmente è identica all'ideologia ultra-liberale, ultra-individualista, ultra-troxco-liberalista in un certo senso, e questa elite ultra-liberale che distrugge tutte le radici, tutto il patrimonio del classicismo, della cultura antica, della cultura medievale, della cultura anche moderna, ma idealista o spiritualmente orientata, questa forma culturale dell'elite dominante dell'Oveste, dell'Occidente, non coincide con tutto l'Oveste, tutto l'Occidente. Si tratta di una minoranza dell'Occidente che ha usurpato il potere, anzitutto sull'Occidente stesso e dopo o parallelmente sul resto dell'umanità. E questo è chiave, è chiave per comprendere la multipolarità nell'Occidente. La multipolarità nell'Occidente non è lo stesso che stare con la Russia, con la Cina, con l'Islam, con l'Africa, con l'America Latina contro l'Oveste, contro l'Occidente. No, si tratta di stare con l'Occidente classico, con l'Occidente delle radici, delle tradizioni, dei valori, della giustizia, della libertà, contro questa usurpazione del potere dai gruppi internazionali, globalisti, estremisti, liberali. E questo è multipolarità. L'Occidente deve lottare contro l'Occidente stesso, ma ci sono due Occidenti. Occidente unipolare, rappresentato dai capi di questi gruppi globalisti, del promotore di questa degenerazione radicale delle società che sono al favore dell'immigrazione non controllata, il cambio del sesso, la destruzione del sesso intero. E questa è una forma, e questa è una desumanizzazione, dell'esumanizzazione radicale dall'elite liberale. E c'è altro Occidente, Occidente dei popoli, Occidente delle tradizioni, Occidente non tan degenerato come altri, Occidente delle società ancora normale, con alcuni tratti della normalità considerato come un barbarismo dall'elite liberale. E questo Occidente si può formarsi, si può identificarsi, si può entrare nella storia, solo nel contesto delle multipolarità, creando non l'Occidente globale, ma l'Occidente della civiltà occidentale classica, la civiltà con le radici. E questa è la sfida all'Europa, agli Stati Uniti, di liberarsi di loro che misrepresentano il popolo, il popolo, la società vera, la società ancora normale. Tutto si cambia, chi è ancora normale, domani forse sarà liberale, abnormale, ma questo è un ballatto mentalmente, ma oggi credo che ancora c'è una massa della normalità negli Occidenti che coincide con la struttura primordiale della multipolarità occidentale. Se Occidente identifica sua propria storia, sua propria tradizione, suo proprio valore, sua propria identità, non con universalità, ma con occidentalità, con europeità, e questo sarà, sarebbe, questo sarebbe il momento a raggiungere la lotta delle altre civiltà per la restaurazione della loro dignità. Per questo credo che questo multipolarismo interiore per la società occidentale, europee e americane, questo è precisamente la cosa sconosciuta dall'occidentale. Per l'elite voglio dare l'impressione che si tratta della consolidazione della civiltà occidentale nella lotta contro Putin, contro cinesi, contro islamici, ma non si tratta di queste cose, si tratta di una forma di schiavitù, della sommissione della maggioranza ancora sana, ancora normale della gente occidentale dalla parte dell'elite che sono usurpatori delle masse e per questo credo che se per noi, per russi, per cinesi, per islamici si tratta della guerra contro l'accidente come l'accidente globalista, egemonica, universalista, per occidentale normale, si tratta della rivoluzione, non della guerra, ma della rivoluzione interiore dei popoli contro queste elite liberali usurpatori dei poteri, tutti poteri anzitutto ideologico, intellettuale, mediatico, eccetera eccetera e questo credo che è la sfida per noi molti polarità è identica alla guerra e alla vittoria nella questa guerra della guerra della liberazione della egemonia liberale occidentale per per i normali dell'occidente ancora normali dell'occidente si tratta della rivoluzione della rivolta credo che in questo caso questo volto non sarà la rivolta marxista della sinistra perché la sinistra è radicalmente sotto controllo del potere liberale si tratta della rivoluzione conservatrice si tratta della rivolta della normalità con radice con la rivolta della gente comune della gente normale né destra né sinistra contro l'elite abnormale non più normale e questa è la rivoluzione per normalità che coincide con il progetto multipolare perché occidente nel contesto della vittoria possibile o possibile futura dell'occidente normale illiberale non postmodernista non senza radici ma con radici in questa cosa questa vittoria finirà il scontro tra noi e tra occidente non sarà più la ragione di questa guerra non c'è la pretensione all'universalità unipolare non c'è la guerra è semplicis e questo comprende molto bene Donald Trump negli Stati Uniti e quando dici che in un momento in un minuto potrebbe finire con la guerra nell'Ucraina è vero bisogna concentrarsi su normalità dell'occidente e lasciare questa volontà perversa di globalizzare il mondo e alcune guerre finiranno immediatamente e la guerra nell'Ucraina finirà perché si tratta dell'attaccio dei globalisti contro la Russia sia ovvio che la situazione nel Gaza il genocidio dei palestinesi dalla parte di Israele dei zionisti e anche la guerra il scontro della civiltà perché i zionisti si credono di essere occidentali e amici dell'occidente contro il mondo islamico che non corrisponde con standard ultraliberale per questo bisogna bisogna concentrarsi sull'occidente normale contro occidente perverso globalisto e i conflitti certi conflitti che almeno finiranno grazie per vostra attenzione e credo che bisogna più e più parlare pensare discutere il problema del multipolarismo della multipolarità perché questo è il problema la contraddizione più grande del nostro secolo se per esempio per esempio il problema del capitale contro il lavoro era la formula storica del secolo precedente oggi credo che il conflitto più importante più profondo questo è il conflitto tra unipolarità che vuole conservarsi a tutto il prezzo ma che sta nel stato della decadenza e multipolarità che cresce che diviene più e più più e più forte e potente e per questo credo che la vittoria sarà nostra grazie grazie Grazie.